Che è netto Bodo? Dopo oltre 200 presenze tra i professionisti, la scelta di scendere nel profondo sud d'Italia è scendere in Serie D per sposare la causa della Bibonese? Diciamo che è una cosa che quando la scelta Bibonese mi ha chiamato l'ho accettato subito perché ormai è una piazza importante e il mio sogno è di ritornare a giocare in sud perché è una piazza per me. La scelta è dettata da quali motivi? Diciamo che non c'è motivo, è una scelta che mi ha sempre voluto, il direttore mi ha chiamato tutti i giorni e io l'ho fatto questa scelta dopo che non era facile. Ormai caccio in Italia in Liga Pro, non è come prima che giocano queste ovvi di 14 ovvi, poi l'ho fatto questa scelta, secondo me è una scelta migliore per me. Insieme per tornare tra i professionisti, subito. Adesso cosa ti dico? Siamo in serie di questi momenti però speriamo che esci questa buona notizia oggi pomeriggio. Un campionato di lettanti per una società che ha tutto per ambire ai professionisti, dalla struttura all'allenatore. Questa è difficile, in serie di è sempre difficile, speriamo che uno di cui giocare in serie di deve essere a livello mentalmente, però speriamo che riusciamo a fare una cosa per bene perché io sono felice che quest'anno facciamo una cosa per bene. Ecco, dei tuoi compagni di squadra cosa mi puoi dire? Ieri ti sei allenato con loro? Nel primo giorno sono subito stato bene con loro, è un buon gruppo, speriamo che si vince con il gruppo, non si vince con il singolo. C'è qualcuno che ti ha stupito, qualcuno che ti ha sorpreso più degli altri? No, sono tutto uguale. Campilongo? Un allenatore che due anni fa, quando io ero a Castanamare, lui ha avuto l'opportunità di venire a allenare a Castanamare in gennaio, però alla fine non è andato un buon fine. Però c'è un mio compagno di squadra che tutti hanno parlato sempre bene di lui. Questo è un fosso in più per questa squadra, perché abbiamo un allenatore molto importante come lui. Per quanto riguarda invece i tifosi, cosa puoi dire ai tifosi? Cosa ti senti di dire? L'unica cosa che deve dire ai tifosi è che deve stare vicino alla squadra, che fosse a Bibonese. L'ultima domanda, le caratteristiche di Kenneth o Bodo? Diciamo che ultimamente ho sempre giocato davanti alla difesa, però a me il ruolo di centrocampo a 3-2 non c'è problema. Io posso anche giocare a qualsiasi posto, però con la scelta ha deciso di essere a me.